Ragazzi, lo so che ogni volta che provate a fare un foro nella schiena di Pinocchio verrà sempre storto. È così, non possiamo farci niente. Allora vi insegno un trucco preso da una mia compilation. 100 soluzioni per farsi insultare di brutto. Basta prendere una livella, quelle classiche che potete trovare dal verduraio. Prima mettiamo in bolla la punta dell'avvitatore e poi con la pistola e il formaggio incolliamo la livella al lato dell'avvitatore. Una volta che l'emmental è seccato, provate adesso a fare un foro e vi accorgerete che ora sarà perfettamente perpendicolare. Se anche tu quando fuori sei convinto che il buco verrà dritto e poi ti accorgi che è più storto di un olivo, iscriviti al canale. Dopotutto, anche questa è Livelleria.